E' stata riaperta il traffico alla bretella stradale che permetterà di superare il tratto interrotto del viadotto Emera sull'autostrada A19 danneggiato lo scorso 10 aprile da una frana. Il nuovo collegamento provvisorio realizzato dall'ANAS è lungo complessivamente due chilometri e comprende l'adeugamento della viabilità esistente tra cui la strada provinciale 24, dallo svincolo di Scillato sino al viadotto, e la costruzione di una nuova rampa di accesso all'autostrada. La bretella consentirà dunque di ripristinare il collegamento tra Palermo e Catania lungo il percorso provvisorio più breve e con caratteristiche adeguate al traffico autostradale e quindi anche dai mezzi pesanti senza limitazioni di sagoma e portata. Subito dopo il movimento franoso dello scorso 10 aprile è stato immediatamente attivato un sistema di monitoraggio finalizzato al controllo di eventuali spostamenti degli impalcati e del fronte di frana. Attualmente è in esercizio un sistema di monitoraggio integrato, topografico e geotecnico. Nel frattempo è partita il 10 ottobre scorso la demolizione delle sei campate del viadotto direzione Catania danneggiate dalla frana per un importo di 2,3 milioni di euro che saranno completate entro il mese di dicembre. Giorno 2 dicembre invece verranno avviate le procedure di autorizzazione ambientale del progetto di ripristino definitivo dell'autostrada. Il nuovo tratto di viadotto e mera sarà in acciaio con tre campate di grande luce per uno sviluppo complessivo di 270 metri. La campata centrale di luce, 130 metri, consentirà di scavalcare tutta la parte centrale del corpo di frana, mentre le due pile e le relative fondazioni posizionate ai margini della frana saranno dimensionate per resistere al complesso quadro geomorfologico esistente sui versanti. Il progetto esecutivo sarà ultimato entro il giugno 2016 per il successivo appalto dei lavori della durata di 18 mesi. Entro la primavera del 2018 dunque il tratto autostradale sarà nuovamente disponibile a due corsie per senso di marcia senza interruzioni.